E arriva un pareccio tra Milano e Udinese, guai, guai a gioire, guai a gioire, anche perché domani con il Genoa sono 5 partite che perdiamo con il Genoa al Ferraris, 5 di fila, 5 di fila, e nelle ultime 4 partite non abbiamo fatto gol al Genoa, in 4 di queste 5, quindi guai a gioire, guai. Però commentiamo questa partita qua, commentiamo un Milan che non riesce più a vincere e si chiede del perché, sicuramente molti imputeranno l'effetto derby, altri no, io credo che si sia anche un po' svuotato il serbatoio. Il Milan, gran parte delle partite le ha vinte sulla grinta, sulla corsa, oltre alla solidità difensiva, perché è una squadra che prendeva e prende derby a parte, prende pochi gol. Per cui, secondo me, si è un po' svuotato il serbatoio. Cioè, sì, l'allenatore può essere bravo, ti può dar grinta, ma se poi il serbatoio è vuoto. Non sto parlando solo della partita di stasera, sto parlando di un susseguirsi di giornate in cui il Milan ha subito una certa debacle da questo punto di vista. Poi, vincere aiuta a vincere, eppure se il serbatoio si sta svuotando con una vittoria, magari lo riempie un po', da un punto di vista della mente, da un punto di vista delle gambe. Con il derby hanno preso una mazzata, una mazzata non la partita che abbiamo perso, una mazzata per quanto riguarda la partita in sé per sé. L'hanno preso una mazzata perché si sono sgretolate anche delle convinzioni, e poi arriva la sconfitta con la Sampa, arriva un pareggio qui con l'Udinese. E sono, si può chiamare una mini crisi, sì, però io non saprei, c'è da dire che è anche una squadra sfortunata adesso. Ecco, perché poi quando vinci la fortuna ti arriva, quando le cose iniziano ad andare male, la fortuna ti volta anche faccia. Perché oggi, per esempio, due infortuni, Donna Rum, Paquetà, Paquetà. Aggiungiamoci che che sì è fuori, e che sì è un corridore incredibile a proposito del serbatoio. Perché sì, ti serve. Che sì, al Milan serve tantissimo. Quasi e forse più di Cardi all'Inter. Paradossalmente, secondo me, che sì serve ancora di più al Milan. Perché è ovunque, è dietro, è avanti, è ovunque, è ovunque. Quindi, di questo giocatore, ecco perché a volte dici sì, devo usare il pugno duro, queste qua. Però poi il giocatore ti manca. Però poi il giocatore ti manca e i risultati non arrivano. Non è solo questo, è un insieme di cose. Siamo tutti d'accordo, però aggiungici anche questo. Aggiungici anche questo. Della gara, cioè, è stato un primo tempo noiosissimo, brutto, brutto. Veramente il primo tempo è stato proprio una noia mortale. Poi nel secondo tempo è stato molto agguerrito, diciamo, soprattutto per il pareggio dell'Udinese. È strano che il Milan abbia preso un gol del genere in contropiede sull'I, che era un calcio d'angolo. Hanno preso il gol in contropiede. Poi l'Udinese c'è i giocatori adatti per fare quel gioco là. Ha dei giocatori che ti fanno uno strappo incredibile. Fofanà, poi quello che è entrato, che stavolta l'ha partito, cacca, micidiale. E se la vai a vedere, nonostante, fino al vantaggio del Milan, era tutto sotto controllo e meritava, secondo me, il Milan. Poi nel finale è andata bene, perché l'Udinese si è divorato un'occasione pazzesca con De Paul, ma anche De Maio di testa, se non erro, lui, sì, sugli sviluppi di un calcio da fermo. Nel secondo tempo la partita è stata viva e poteva finire in qualsiasi modo. Il Milan poteva di nuovo portarla in vantaggio e alla fine poteva anche passare l'Udinese. Quindi non lo so, è stato tutto sommato giusto. Niente, questa è la verità. Voglio sottolineare un giocatore, Cutrone. Cutrone è un giocatore che io lo farei giocare sempre. Al di là che c'è Piontek, sì, c'è Piontek, tutto quello che vuoi, questo e quell'altro. Ma Cutrone rispecchia l'indole del giocatore che piace a me. C'è poco da fare. Gli ho visto sbagliare uno stop e quindi perdere una palla in una circostanza. Si è fatto 30 metri per andare a recuperare la palla. Non ci è riuscito ed ha iniziato a sbraitare come più non posso. A me piace, a me piace vedere il giocatore che dà tutto, che veramente si impegna. E poi tutti parleranno del gol di Pistolino, dell'attaccante, la pistola magica. Ma l'assist di Cutrone, tanta roba, ragazzi. Quindi Cutrone è un giocatore che io lo farei giocare sempre, 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 sempre. Per quel che non mi guarda, questo è il mio commento. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, leccate e iscrivetevi al canale. Ciao.